Quella che tu chiami routine. Come faccio a vivere se la mia vita e il mio lavoro è un'insopportabile routine? Commento. La routine della tua vita e del tuo lavoro sei tu. È ciò che ti serve per trascenderti. Non è un'esperienza esterna a te di cui ti puoi liberare. Il suicida non si libera della sua vita, la trasferisce in una prossima vita. Quella che tu chiami routine è la maschera e la personalità che necessariamente indossi in questa vita. Grazie a tutti.